Corrono le piacitlette, le ragazzi di 40 anni, sulla strada per il catechismo o per il torneo di calcio. Torneranno a farsi le seghe e a qualcuno tornerà l'acne, forse si innamoreranno ma sarà per poco tempo o meglio. Per poco amore, rubati in una scuola media o forse in una discoteca tra un'acide e un'aranciata o in un pomeriggio di vacanza a farsi male. Si salveranno dagli amori legati e dalle banche che rubano bene. Per rimanere giorni immobili, su una strada provinciale a contare le stelle, per il cortile e l'inferno. Il Vangelo è lo sport, il Vangelo è lo sport. Ma che vuol dire che non si può stare fermi ad un'estate, a un colore, a un pianeta? Ma che vuol dire che è adolescente, che vuol dire che il tempo passa, che vuol dire 40 anni e 120? E poi perché non possiamo più giocare? E neanche farci male, perché tutto deve andare sempre come è normale. Posso salverermi dagli amori legati e dalle banche che rubano bene. Per rimanere giorni immobili, su una strada provinciale a contare le stelle, tra il cortile e l'inferno. Il Vangelo è lo sport, il Vangelo è lo sport. Grazie a tutti.